Guardi, che cosa è accaduto? Per paradosso l'ha spiegato bene un suo collega, che è il direttore della stampa Andrea Malaguti. Dice a un certo punto il direttore della stampa Andrea Malaguti, che probabilmente è qui, sono giorni che noi parliamo della vita privata di un ministro, va da sé che quando parli per giorni della vita privata di un ministro, la sua vita pubblica è finita. E' così, solo che ci sono due elementi che vanno considerati di questa dichiarazione. Il primo elemento, secondo me, è che il direttore Malaguti conferma che si tratta di una vicenda di vita privata, perché ad oggi il ministro Sangiuliano si è dimesso, ma non ci sono illeciti in questa vicenda commessi dal ministro Sangiuliano. La seconda questione è che sono giorni che discutiamo. Discutiamo chi? Sì. Sì, certo, c'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro, fermo restando che chiaramente il ministro ha sbagliato, che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. E io penso che sia un precedente, è un precedente al quale non intendo prestarmi, non credo ci si debba prestare, che è la ragione per la quale io inizialmente non ho accettato le dimissioni del ministro Sangiuliano. Dopodiché ho accettato ieri le dimissioni del ministro Sangiuliano, che le ha presentate come irrevocabili, perché il ministro Sangiuliano voleva, diciamo, liberarsi dalla condizione di ministro per potersi meglio difendere, perché capiva, come capisco io e capivo io, che l'autorevolezza del governo, il ruolo del governo, non poteva essere, diciamo, continuare a essere sottoposto a questa pressione mediatica. Dopodiché, se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà, come si dice, è morto il re, viva il re, si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro. Ieri, quando ancora la stampa aspettava le dimissioni di Sangiuliano, io ero già al Quirinale, a firmare la nomina del nuovo ministro, perché intendo fare il mio lavoro e intendo farlo bene e intendo farlo fino alla fine della legislatura.